è una possibilità di farti conoscere anche qui a Frosinone, hai giocato con lei alla grande ecco le tue impressioni, sull'epo mi ritrovi qui a Frosinone e poi facendo lei magari a ok, è il vostro primo anno qui a Frosinone, e quali le tue impressioni sull'epoca e in generale a Frosinone? non ho fatto questo prima, non ho fatto questo prima, è la Frosinone, è il mio primo anno, sono nervoso non ho fatto questo prima, sono felice di stare qui a Frosinone è il mio primo anno qui a Frosinone e sono felice di stare qui a Frosinone in quindi lo vincere il team l'altro è il tuo ultimo match? sì, sono felice perché vincere e questo è quello che abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di ottenere le tue e abbiamo bisogno di ottenere le tue, è buono noi e ora vogliamo giocare di più in Serra È un pochetto nervoso come prima volta nella conferenza stampa, sì è contento di stare qui a Frosinone, più che nervoso penso che avrete emozionato, nervoso inteso come emozione per la prima volta in conferenza stampa e è altrettanto contento dei punti ottenuti domenica contro l'Udinese e spera ovviamente di continuare, di avere seguito e risultare nei partiti.